Ho creato questo video perché volevo rispondere a tutte le persone che hanno criticato iManchis, iBeer, nell'App Store dicendo che è un semplice filmato che non è interattivo, invece si sbagliano perché... Allora... Questo è il vecchio iManchis è un semplice filmato Non è interattivo Mentre iManchis 2.0 che è questo Dov'è? Questo È completamente interattivo Le dita non si infilano finché io non voglio E se lo scuoto si muove Per far azionare le dita basta toccare lo schermo E lo posso fare quante volte voglio Non come iManchis 1 Ma qui si può fare una volta sola Per svuotarlo basta girarlo Lo stesso per iBeer Lo stesso per iBeer Questo iBeer 1.0 Completamente non interattivo Completamente non interattivo Mentre il 2.0 Vedete? 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 Vedete?